e ci siamo quest'oggi venerdì 13 luglio seconda tappa Fatto Summer Tour siamo qui in quel di Molfetta alle piscine comunali ci siamo le nostre domande quest'oggi saranno cattivissime tema sotto sopra e viceversa andiamo a vedere Fatto Summer Tour abbiamo una foto reporter di infezione questa sera facciamo una foto tutti insieme Alessandra tutti di fronte alla consola guardate Alessandra è qui vogliamo sentire lui ciao ragazze come vi chiamate? Angela Adele Noemi ciao ragazzi adesso dovete rispondere col viceversa il contrario il commissario Rex è un cane o un porco? porco chi è il gatto tra Tom e Jerry? è Tom sbagliato ci siamo beccate come vi chiamate? Rossita Marica ragazze dovete rispondere con il contrario è pari o dispari? pari pari bravissime tra Tom e Jerry chi è il topo? bravissime come ti chiami? Aurelio Aurelio dove ci troviamo? a Polfetta o a Molfetta? Molfetta bravissimo il numero uno è pari o dispari? dispari bravissimo è pari perché tu dici l'urla degli uomini? per sentire che l'urla degli uomini è più forte di quanto le donne ok sentiamo l'urla degli uomini e hi come come fa? what? come come fa? qua? come come fa? come come qua? come come qua? come carne qua? Ma sei da Irma, non c'è lo che Baccia 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 in cura Ciao, come ti chiami? Annalisa, perché sei qui? Mi ci hanno costretto Sei pronta per le mie domande? Certo Devi rispondere al contrario Il numero 5 è pari o dispari? Al contrario Pari Bravissima, ancora l'insalata è un piatto freddo o caldo? Caldo L'aria calda va al giù o va giù? Giù Sbagliato Ci siamo, ti abbiamo beccato, come ti chiami? Maurizio Maurizio deve rispondere viceversa, sei pronto? Sì Conosci il fatto Summer Tour? No Bravissimo, ancora nella bocca della verità, devi mettere la mano o la moneta? La moneta Bravissimo, ancora l'insalata è un piatto freddo o caldo? Caldo Sbagliato Ciao ragazzi, come vi chiamate? Anna Bianca Davide Dovete rispondere con il contrario Siete pronti? Sì Se vi lavate i capelli con il dentifricio o con lo shampoo? Con dascio Lei usa la catecina Con la mucchina Bravo Il commissario Rex è un cane e un porco Porco Ciao ragazzi, come vi chiamate? Murillo? Liban Conoscete il fatto Summer Tour? Sì Certo Adesso dovete rispondermi al contrario Il numero 8 è pari o dispari? Dispari Dispari Il commissario Rex è un cane e un porco? Porco E un porco Se mi faccio lo shampoo, uso il dentifricio o il dash? Sì, non ti allungo Il dentifricio? Il dash E ti abbiamo beccato come ti chiami? Davide Ciao Davide, conosci il fatto Summer Tour? Certo Sei pronto per le mie pazze interviste? Va bene Devi rispondere al contrario, sei pronto? Allora, il commissario Rex è un cane o un porco? Un porco Se ti lavi i capelli con lo shampoo o col dentifricio? Col dentifricio Bravissimo Bravissimo Quanti anni hai? Come si risponde al contrario? Ciao, come ti chiami? Michele Conosci il fatto Summer Tour? No, ma no Io chi sono? Simonetta Bravissimo Simoncina Devi rispondere con il contrario, sei pronto? Prontissimo Il numero uno è Bari o Dispari? Bari Bravissimo Ancora l'insalata è un piatto freddo o caldo? Caldo Bravissimo La capitale dell'Italia, Bari o Roma? Bari Bravo Hai bevuto? Boh Boh Chi non lo conosce? E' il famoso in cameramen che è il Togretto Simon, ma lo sai che è una calcola qui che sono cantina? Ciao, come ti chiami? Gabriele. Agnese. Dove ci troviamo? A Polpetta o a Molfetta? Molfetta. Dovete rispondere con il contrario. Il numero uno è pari o dispari? Pari. Perché siete sul contrario? Bravissima. Lo struzzo è Willy o il coyote? Il coyote. Bravissima. Il gatto, il tom o il gatto? Tom. Ma tu non sai mai niente. Ciao. Ciao, come ti chiami? Claudia. Di nuovo? Sì. Devi rispondere al contrario. Sei pronta? Certo. Se ti lavi i capelli col dash o con lo shampoo? Col dash. Bravissima. Quanto hai bevuto? Poco tanto? Niente. Bravissima. Ancora se fai la mendemmia ad aprile o a settembre? A settembre. Sbagliato. Aprile. Ciao, come ti chiami? Ilenia. Ilenia, oggi devi rispondermi al contrario con la risposta sbagliata. Tra Tom e Jerry, chi è il gatto? Jerry. Bravissima. Il commissario Rex è un cane o un porco? Un porco. Bravissima. La copertura. La copertura. Mi raccomando la copertura. Sì, ma di Fabio. Facciamo un applauso anche a Giulia e a Fabio. E i nostri modelli. Gli amici arrivati al numero di Giulia stasera. Ciao, come ti chiami? Melissa. Melissa, mi devi rispondere con la risposta sbagliata. Per lavarti i capelli utilizzi il dentifricio o lo shampoo? Il dentifricio. Bravissima. Ma quanto hai bevuto? Poco o tanto? Poco. Brava. Ciao, come ti chiami? Marco. E tu? Nico. Lo stesso di lui. Perfetto, ragazzi, dovete rispondere col viceversa. Siete pronti? Sì. Bravissimi. Allora, numero otto, pari o dispari? Dispari. Dispari. Bravissimo. Il commissario Rex è un cane o un porco? Un porco. Ancora, se vi lavate i capelli, shampoo o dentifricio? Dentifricio. Quanto avete bevuto? Poco. Niente. Allora, ragazze, giocate con noi. Come vi chiamate? Brigida. Simona. Ciao, ragazze, dovete rispondere con la risposta sbagliata. Pari o dispari? Dispari. Dispari. Il commissario Rex è un porco o un cane? Un porco. Un porco. Bravissime. Il commissario Rex è un po' di più. Il commissario Rex è un po' di più. Il commissario Rex è un po' di più.